eccoci buongiorno marina benvenuta buongiorno abbiamo con noi marina bovolon di fedros che la nostra esperta operatrice di registri acascici e quindi quest'oggi farà una breve introduzione per spiegare a chi ancora non li conosce di che cosa si tratta quindi marina se poi introduci cosa sono i registri acascici cosa sono i registri acascici registri acascici sono la via della scoperta della nostra anima è una dimensione di frequenze dove tutta la storia della nostra anima dalla prima incarnazione a quelle future è scritta e si può accedere questo stiamo parlando del registro acascico personale si può accedere attraverso una ritualità che viene insegnata tramandata dai tempi e ci permette di capire il senso delle nostre esperienze il senso delle nostre situazioni magari conflittuali o delle nostre malattie perché sulla nostra del nostro cammino sulla terra perché siamo qui cosa siamo venuti a fare e come entrare nel nostro potenziale come entrare nei nostri talenti per fare un quadro un po super sintetico si è benissimo quindi è qualcosa che ovviamente risuona con tutte le altre attività che facciamo in fedros di cui parliamo spesso e sono molto grata marina perché abbiamo già fatto anche tanti esperimenti in cui abbiamo riscontrato che c'è anche una certa sincronicità tra quello che vediamo per esempio nella lettura del tema natale e quello che poi succede con la lettura dei registri acascici è chiaro è chiaro che adesso per oggi ci fermiamo qui abbiamo fatto solo una breve introduzione però questa vuole essere una mini serie in cui via via rispondiamo a tutte le domande principali che solitamente ci si fanno quando si parla di registri acascici quindi ci vediamo col prossimo video e grazie marina grazie ciao ciao ciao